Due nuove ordinanze regionali e quelle che presto siglerà il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Nessuno potrà scendere dai pullman provenienti dall'estero, in modo particolare dall'est Europa, senza controlli preventivi. E se si va al ristorante sarà obbligatorio per ogni tavolo fornire una carta di identità per evitare di incorrere in false generalità come già accaduto in Costiera Sorrentina. Lo ha detto questa mattina il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca al Teatro Agusteo di Salerno nel corso dell'incontro con i vincitori del concorso indetto nei mesi scorsi dalla Regione che presto prenderanno servizio al Comune di Salerno. Il governatore, in virtù dell'aumento dei casi degli ultimi giorni, ha richiamato ancora una volta tutti alla responsabilità e all'utilizzo corretto della mascherina. Ovviamente dobbiamo tenere gli occhi aperti, fare attenzione. Stiamo valutando quotidianamente la situazione, non è drammatica, a condizione che ci sia senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini. C'è stato un rilassamento preoccupante e grave in queste settimane e in questi mesi e rischiamo di non arrivare neanche al mese di settembre. Noi stiamo valutando due altre misure da prendere e quindi sto valutando anche altre ordinanze da fare. La prima riguarda gli arrivi in Italia e per quello che ci riguarda in Campania dei pullman che vengono dai paesi dell'est Europa. Continuano ad arrivare pullman senza nessun controllo dall'Ucraina, dalla Romania, dalla Bulgaria. Abbiamo rilevato che la gran parte dei focolai oggi sono di importazione, vengono dai paesi esteri. Quindi dobbiamo trovare delle forme di controllo preventivo. Stiamo valutando con la protezione civile il tipo di ordinanza, ma vogliamo fare in modo che nessuno scenda da un pullman senza aver avuto un controllo preventivo per chi viene dall'estero. La seconda misura che vorremmo prendere è l'obbligo per chi va al ristorante di fornire la carta d'identità. Almeno per ogni tavolo al ristorante ci deve essere una persona che fornisce la carta d'identità, perché abbiamo verificato che ci sono degli imbecilli irresponsabili che danno generalità false. E' capitato in un ristorante sulla costiera sorrentina che, avendo trovato un cliente positivo, abbiamo telefonato con le strutture sanitarie ai numeri che c'erano stati dati dagli altri clienti. Erano numeri falsi. Ma come si può essere così irresponsabili? Ma abbiamo capito che è in gioco la nostra vita, oltre che la vita dei nostri familiari. Allora probabilmente faremo un'ordinanza, ripeto la stiamo valutando con la protezione civile, per rendere obbligatorio perlomeno l'esibizione per ogni tavolo di una carta d'identità. Che ci sia almeno una persona certificata a cui fare capo per individuare in caso di problemi chi erano quelli che stavano intorno al tavolo. Allora, noi dobbiamo essere attenti perché si apre l'anno scolastico. Ci stiamo preparando sia alle vaccinazioni di massa, sia ai vaccini anti-influenzali, sia agli screening sierologici che cercheremo di fare a tutto il personale scolastico. Parliamo di 180.000 test che dobbiamo fare. Ma è evidente che se non scatta un nuovo senso di responsabilità dei cittadini, il lavoro rischia di essere pregiudicato. Questo è l'appello che io faccio. Mascherine sempre. Se stai da solo a passeggiare con i bambini non c'è problema. Ma se c'è un assembramento ti devi mettere questa benedetta mascherina perché è l'unica forma di protezione che abbiamo.